I veri credenti, convinti, ci possono andare questi squadristi che semmai non hanno avuto prebende ma che desiderano o quanti sono diventati qualcuno, solo grazie ad avere un incarico del fascio, questi ritornano, in più questi giovani che pensano che l'armistizio sia stato un tradimento della guerra e quindi ritornano anche loro, questi più giovani chiedendo un rinnovamento del fascismo con la cacciata dei corrotti, con la cacciata dei disonesti, dei profittatori e i sindacalisti da parte loro dicono, avete visto che gli operai si sono mossi nel marzo e gli operai si rimuovono anche in agosto perché non va dimenticato che in quei 45 giorni gli operai si organizzano, ancora di più, creano i loro commissari interni, danno vita a tutta una serie di strutture sindacali e che cosa ottengono? ci chiedono la fine della guerra, finire la guerra e cacciar via tutti quelli, tutti i fascisti dentro le fabbriche che facevano il buono e il cattivo tempo in quanto avevano il distintivo o di squadrista o antemarcia eccetera eccetera, in più avevano più soldi, il discorso delle benemerenze io sono un benemerito perché sono stato uno squadrista, sono stato uno che è stato dentro il fascismo prima che andasse al potere, quindi un'antemarcia, antemarcia su Roma e dunque io ho diritto a dei privilegi e a dei vantaggi di natura economica per cui il contratto nazionale di lavoro, i contratti di lavoro prevedevano questi vantaggi specifici di natura economica per queste figure, diciamo di rilievo tra virgolette fascisti, mentre l'operaio allo stesso livello, il tecnico allo stesso livello in fabbrica non riceveva quei vantaggi di natura economica, i sindacalisti anche loro si muovono per non ripristinare questi vecchi privilegi di anzianità, di vantaggi economici a vari livelli perché c'era stata questa contestazione forte. I sindacalisti possono dire il fascismo può essere gemone ma non ci deve essere solo lui, è il lavoro, infatti nel manifesto è il lavoro che deve essere al centro il cuore della nuova repubblica sociale italiana, tant'è vero che ottengano che si chiami repubblica sociale italiana non repubblica fascista italiana, alcuni avrebbero preferito repubblica fascista dentro quel magma ottengono in questa fase, perché è ancora una fase, settembre, ottobre, novembre, primissimi di dicembre che ci si sposti su questo terreno. Se inizialmente sono questi, quelli che diciamo non dominano in assoluto, perché ci sono anche gli altri già presenti, però sembrano avere un peso predominante in questa fase di difficoltà, di reinsediamento nelle strutture così complicato perché a volte non hanno la sede, non hanno l'auto, non hanno la scrivania, non hanno la seggiola, non hanno la radio nella sede, poi diciamo prenderanno, già in dicembre cominciano, in gennaio prenderà il sopravvento l'altra anima, l'anima diciamo fascista vecchio stampo lo stesso Pavolini cosa aveva detto quando era comparso sulla scena come segretario del partito fascista repubblicano al titolo provvisorio, ma intanto segretario? Il partito che guido si rilaccerà al vecchio le sue tradizioni luminose, ma sarà un partito nuovo composto di combattenti di questa guerra di lavoratori e quindi avrà questi caratteri tutti centrati sul lavoro e anche Mussolini aveva detto contadini, operai, io mi appello a voi, voi dovete venire sotto questo nuovo stato per... invece quando siamo a gennaio, praticamente già in dicembre, già ci sono dei segnali chiari nel dicembre del 43, ma nel gennaio del 44 dopo l'uccisione del processo di Verona c'è questo consiglio dei ministri e lui cosa decide? Cosa si decide? Uno, il riconoscimento giuridico del partito e quindi si ritorna al partito, cioè con la struttura del vecchio partito nazionale fascista e l'altro il ripristino delle benemerenze fasciste il processo di Verona, che è sempre stato visto, tipo sopopera, il dramma del Duce il dramma per la Ficcia, che è un dramma per la Fiperedda, non c'è dubbio in realtà è lo scotto che deve pagare Mussolini fondamentalmente, dette in parole volgari, semplici per ripristinare il suo potere. A questo punto lui dice l'anima che vuole, anche l'anima estremista semmai, che voleva la testa dei traditori e che voleva però un partito in cui si eleggessero i dirigenti non più nominati dall'alto e così via. Quest'anima viene zittita con l'uccisione di Ciano e degli altri di Galeazzo Ciano. Abbiamo ucciso i traditori e dall'altro diciamo però io ti faccio riconoscimento giuridico ti ricreo il vecchio partito che è un assurdo in quelle condizioni della guerra, con i tedeschi che la fanno da padroni, che decidono tutto loro per quanto riguarda la guerra grossa però noi abbiamo la vecchia struttura di partito, non solo, lo stesso giorno si decide sul ripristino delle benemerenze fasciste, cioè dei privilegi per carriere, vantaggi economici e così via. E lo stesso giorno l'abilità di Mussolini e il suo attivismo, lo stesso 13 gennaio decide per la premessa per la socializzazione e quindi esce il documento per la socializzazione delle imprese come premessa, quindi non c'è ancora il decreto attuativo però sulla stampa premessa per la socializzazione quindi il lavoro, tutte queste cose qui però ci sono, c'è lo stesso decreto per le benemerenze fasciste nello stesso consiglio dei ministri, ciò vuol dire che non è il lavoro al centro di questa repubblica ma è il fascismo, è l'ideologia, questo è un fatto importantissimo, è importantissimo i rinnovatori sono sconfitti, sono sconfitti contestualmente questo e quindi un partito dove non ci sono più elezioni che non puoi più eleggere, non ci devono essere più dibattiti ma tutto viene nominato e dall'altro sono decisioni di Mussolini il fatto di frenare gli articoli sulla stampa quindi già il 6 dicembre interviene perché si freni la stampa, questi articoli sulla stampa che pensano la costituente, pensano a fare la repubblica, quando invece qui è il fattore guerra che conta il fattore guerra che conta vuol dire smetterla con qualsiasi idea di rinnovamento smetterla con qualsiasi cambiamento interno e mettere in primo piano quel fattore che già c'era perché nel manifesto di Verona c'era oggi dobbiamo combattere, oggi c'è il fattore guerra che l'avevano voluto anche i tedeschi però era rimasto in secondo ordine rispetto a questi punti di natura sociale